Un paio di anni fa ci siamo aggiudicati l'ingresso in un Horizon 2020, l'Horizon per capirci un po' la Champions League della progettazione europea, la linea principale con cui l'Europa finanzia progetti che tengono insieme le istituzioni e basti dire che per l'Italia gli unici soggetti che fanno parte di questo progetto Horizon 2020 legato ai cambiamenti climatici e anche alle buone pratiche delle città sono il Comune di Pesero, il Comune di Milano e la Fondazione Mattei Deleni di Milano, capofila all'Università di Dins, soggetti che vanno da Città del Capo all'Università Irlandesi fino a Lima in Peru e tengono insieme comuni, municipalità in alcuni casi di realtà più larghe, metropolitane e università. Serve a scambiarsi le buone pratiche e quindi raccontare i propri asset specifici per il contrasto al cambiamento climatico e l'adattamento e ottenere finanziamenti per nuovi progetti in base a quelle che sono le proprie linee specifiche di azione. Noi abbiamo presentato in maniera molto apprezzata l'esperienza della Bicipolitana e anche della scuola che ha ottenuto l'It Platinum a Pantano per poter raccontare appunto casi specifici di politiche pubbliche veramente efficaci, come Milano ha presentato altri progetti e via dicendo. Quello che presentiamo oggi in realtà, che ha il titolo appunto di Pesaro e te, è un progetto che coinvolge 20 milioni di persone in Europa e inizia da un sistema di rilevazione delle buone pratiche quotidiane dall'utilizzo della bicicletta a tutti i sistemi insomma domestici e anche di mobilità che contrastano le emissioni di CO2 e quindi contribuiscono all'ambiente e quindi è un grosso sistema di rilevazione che serve ora a monitorare il punto di partenza e servirà anche nel tempo a monitorare l'efficacia di queste azioni più generali che l'Horizon andrà a sviluppare incrementando le politiche pubbliche delle città in proprio modo europee.